e siamo qua ciao a tutti i merdoni come va spero tutto bene siamo di nuovo nella base segreta pronti per altri raid ho girato per il server per altri due giorni ma non ho trovato nulla il piano è il seguente visto che ho un bel po di dinamite e vorrei utilizzarla tornerò tra qualche settimana lasciando il tempo a questi nerd di ricostruire tutto probabilmente dovrò spostarmi verso il centro della mappa e seguire le tracce dei nuovi giocatori come un predator agagaga adesso diamo un'occhiata alle casse così tanto per smerdare qualche tumorato bimbo minchia che a ferragosto chiuso in casa davanti al pc tutto bello sudato diceva fieramente scopa mamme dei minchioni ti avrebbero griffati la caseggiata purtroppo la mamma dei bimbi minchia è sempre incinta e invece di soffocarli nella culla li alleva e danneggia la terra del far west cioè internet next signore il portale è pronto e siamo qua porca puttana che viaggio è stato davvero pericoloso purtroppo abbiamo incontrato un'onda energetica dei bronis rischiando grosso i bronis sono quelli che vorrebbero scoparsi i minitoni quindi non c'è bisogno di spiegazioni ehi ma la montagna sta riprendendo forma durante la missione avevo affidato a ping pong il compito di iniziare la costruzione di una nuova montagna visto che quella precedente è andata a puttane durante un errore del chunk breve spiegazione per teste di cazzo il mio mondo 5 come tutti ben saprete risale alle prime versioni della beta e durante questi anni sono uscite 7500 versioni di minacraft che hanno portato il gioco a numerosi cambiamenti anche nel codice di gioco questi aggiornamenti sono andati in conflitto con la mappa quindi alcuni pezzi di mondo si sono praticamente auto ricreati senza il mio permesso avete capito che cazzo di storia questo gioco si permette pure di automodificarsi senza il permesso del supremo dio serpente avete già capito dove stiamo andando e vi sta iniziando a tirare l'uccello e da quanti anni che non bucco qui trento mamma mia anzi mamma vostra non mi ricordo più dove cazzo era l'apertura agagagaga ovviamente sto scherzando non potrei mai dimenticarmi la suprema base segreta e tutti i suoi trabocchetti infernali adesso arriverà qualche bimbo minchia ricottaro dicendo che mi ha griffato pure questa agagagaga ti prechi non mi griffari agagagaga ecco un altro errore di merda di una delle 7500 versioni di minacraft man le porte doppie che si spostano alla cazzo di cane questa stronzata risale a parecchi mesi fa ma almeno è facilmente risolvibile bene noto che ci sono delle perdite di piscio nel soffitto altro compito di ping pong udu ziiio le ossa di ve lo ricordate chi era era il griffer caduto in battaglia e seppellito nel giardino dell'amministratore nella missione chiamata nessuno verrà abbandonato vecchio mio quanto tempo è passato le tue ossa sono al sicuro nella cripta della famiglia bastoni agagagaga ed ora arriva il pezzo forte il teschio di cristallo con tutto l'oro e le diamantazioni fottuti nelle precedenti missioni ora ci piazzo i 64 pezzi d'oro che ho fottuto nella missione 18 missione fottutamente completata questo ritorno al griffin mi fa ricordare la mia luna di miele a parigi cioè non era proprio mia diciamo che mi sono fottuto una bella mammina che anni dopo ha messo al mondo un bimbo minchia imbastardito invasato che mi odia a morte agagagaga ehi ma questo significa che sono suo padre udu ziiio cazzo mi sembra ieri quando ho danneggiato il mondo inzuppando una mamma minchia ma non è colpa mia lei non mi aveva detto di avere il virus cazzo ne sapevo io ok era sempre collegata a facebook postava foto con le tette di fuori a 45 anni ma purtroppo non mi sono accorto di nulla speriamo che quel piccolo bastardo abbia sviluppato gli anticorpi altrimenti chiedo scusa all'umanità agagagaga ma bando alle stronzate siamo nella stanza della cia che si è vista nell'episodio del sergente mallon che mi succhia il mellon agagagaga abbiamo posizionato gli oggetti rubati compresa l'incudine e visto che ho una cesta inutilizzata posiziono la lettera della missione 17 nell'archivio bene abbiamo fatto un giretto molto interessante nei meandri della magione bastoni sono molto felice del successo che stanno riscontrando gli ultimi video ma non sempre è stato così mi ricordo una volta che stavo per griffare un server dove ovviamente era vietato il griffin e il furto a mano armata trovo una cesta dentro una casa la apro e mi fotto i diamanti due secondi dopo mi ritrovo in galera con l'ergastolo agagagaga erano così nerd che non potevo nemmeno muovermi liberamente nella cella perché mi faceva tornare indietro agagagaga agagagaga della serie fack 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 bene ora vi saluto perché la vita è breve ciao a tutti merdoni a presto arigato succhiatemi il cazzo